Immagina un tavolo. Un tavolo di vetro, laminato, di plastica o riciclato. Una scrivania da lavoro, o per un pranzo in famiglia, o per i tuoi piedi. Che meraviglia! È un tavolo per otto, dieci o dodici persone. Beh, si possono stringere. Tavolo da pranzo, da caffè, comodino, o semplicemente un tavolo da ping pong. Dopotutto, un tavolo è un tavolo. Anche perché consideriamo ciò che conta. Ci puoi mettere cose sopra, no? Super! Super nuovo, super unico, super salone. 5 settembre, Fiera Milano Raw.